Parlando del Mizzano Adriatico, che sarà in Italia dopo il Tokyo, non hai mai racedo in Italia? Non ho mai racedo in Italia, non ho mai racedo in Italia. Ma sì, è un challenge completamente diverso. Più in direzione di una raceda come Portland. Ovviamente hanno cambiato il layout, quindi vediamo. Credo che sia qualcosa di diverso. Non lo so, ma non lo so. È un challenge per noi per trascorrere alcuni punti, credo, è la cosa più importante. C'è un posto turistico vicino al mare, dove la gente sempre riuscita. Si puoi dire a alcuni turisti, per vedere le raceda in Mizzano Adriatico, cosa puoi dire a loro? Beh, credo che possiamo dire che ci saranno un buon show. Ci saranno un tipo di raceda in Mizzano. Ci saranno 22 dei ragazzi più vele al mondo qui saranno. Ci saranno un buon show per sicuramente. È un paio molto bellissimo, ci speriamo di visitare. Grazie mille. Grazie.